ebbene ciao amiche e amici bianco celesti ci ritroviamo al primo febbraio del 2022 un po' come ci aspettavamo diciamo a vi voglio ringraziare ovviamente ieri abbiamo raggiunto i 500 iscritti grazie alla diretta di sei ore e mezzo che abbiamo approntato insieme ai ragazzi di forza lazio web tv ringrazio insomma nella fattispecie loro e tutti i canali che sono intervenuti ieri sera per me è stato un grande supporto insomma e anche questo sicuramente ha contribuito alla crescita del mio canale quindi vi ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato questo ci tengo a dirlo però è giusto dopo una serata infuocata come quella di ieri dove siamo riusciti a tesserare giovani cabral alle 19 59 circa è giusto trarre delle conclusioni che per quanto a freddo esse siano non è che vadano meglio di quelle fatte ieri sera sostanzialmente anzi sono un po' preoccupato perché alle 11 del mattino avverto un silenzio preoccupante preoccupante su tutti i fronti non che mi aspettassi chissà cosa onestamente però emergono tante cose dalla finestra di mercato di ieri che si è chiusa ieri scusate la finestra di mercato di questo mese la prima è per l'appunto è che nessuno si è degnato di fare un commento pubblico al recente mercato della lazio e mi riferisco ovviamente alla dirigenza non certo al povero sarri che di cose da dire probabilmente ne ha aiosa non c'è stato un commento nemmeno di di una riga temo almeno che io sappia da quello che ho cercato in giro fino ad ora aspettiamo fine giornata per vedere se uno straccio di comunicazione anche di rassicurazione no qualcosa che comunque lasci intendere che la società si sia accorta del fatto che la piazza è immersa nel malumore invece sembra che come sempre tutto vada a finire sotto al tappeto aspettiamo vediamo se succederà qualcosa per quanto riguarda questo aspetto la cosa che mi preoccupa che questo gennaio rischia di creare l'ennesimo precedente stavolta grave stavolta grave che si ripercuoterà sul mercato di giugno e per mercato non intendo né acquisti né cessioni varie ma perdere giocatori proprio non vorrei essere troppo pessimista o disfattista ma dopo quanto visto ieri dopo quanto visto da una società che si è posta in quella maniera nei confronti di giocatori allenatore opinione pubblica sportiva ovviamente intendo è facile pensare che ad esempio luiz felipe se ne freghi altamente di rinnovare ora non che sia tutto sto campione io lo capisco però pensiamoci bene perché tra le cose emerse sempre dal mercato di gennaio emerge che abbiamo due difensori di ruolo centrali dopodiché in seconda linea ci saranno patrick errado che gli si vuole bene però insomma conosciamo tutti le relative problematiche che potrebbero crearsi nell'utilizzo di una coppia centrale così cosa che a firenze probabilmente già si paleserà perché luiz felipe potrebbe non farcela questo vedremo quindi al franchi potremmo trovarci con una coppia centrale patrick radu che la stessa che sceso in campo a verona lazio 41 visto comandato questo mercato io bacio per terra che abbiamo ancora patrick che come sapete ho sempre ritenuto un giocatore di grande grande passione e amore per 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 quello che faceva amore che poi però è stato un po rinnegato no nell'accettare le avance del valenza ma giustamente che cosa avrebbe dovuto fare patrick se non accettare le avance del valenza quindi non gli si può dire proprio niente onestamente quel che è peggio è che a giugno probabilmente ci lascerà anche sergio e non anche lui salberto ora se la cosa che mi chiedo è se non siamo stati in grado di accontentare sarri che non ha chiesto nulla sarri nulla ha chiesto ha chiesto un pezzo di pane probabilmente non ha chiesto grossi nomi ha chiesto dei profili quello sì i profili potevano essere parisi casale poteva essere io torno sempre a dire poteva essere un gatti poteva essere anche un lasagna no una punta quantomeno vera e reale e naturale e non siamo stati in grado di accontentare il mister ma non perché sia sarri perché vi ripeto stiamo tanto a criticare l'operato di sarri e l'atteggiamento di sarri ma fino a prova contraria mi sembra uno dei pochi allenatori che non rompe i coglioni sui nomi grossi quindi e con questo mi riferisco a chi in questi mesi ha avuto il coraggio di dare le colpe a sarri chi ha avuto questo coraggio oggi ieri nella fatti specie abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sarri sia l'unico che non ha proprio colpe di questa faccenda certamente bisognerà fare qualcosa a un certo punto io voglio sperare che a giugno ci troveremo di fronte a una scelta ovvero cioè non noi lo tito voglio sperare che si trovi di fronte a una scelta perché lo tito non si può cambiare questo mettetevelo in testa quello rimane punto e basta cioè sarà il presidente della lazio probabilmente dopo di lui ci sarà il figlio quindi mettiamoci in testa che è nata una dinastia lotito per la lazio non la venderanno mai e non lasceranno mai quindi è anche inutile parlare di lotito secondo me ormai la cosa che però potrebbe cambiare visto che sarri rappresenta la novità arrivata giugno scorso in pompa magna rimane solo una cosa da cambiare e voi sapete una persona più che una cosa voi sapete a chi mi riferisco e per vedere perché io voglio vedere come come funzionerebbe un terzetto lotito sarri in mezzo un altro un altro ds un'altra persona io prego lotito di farci vedere questa cosa perché sono proprio curioso sono 18 anni che c'è tare a fare il ds e è ora che forse cambiamo un po visto che non riusciamo a cambiare sotto nessun altro fronte ieri ho apprezzato gli auguri del per il capodanno cinese come apprezzerei penso un cane che defeca su una iuola cose ci perdiamo in cose veramente inutili ragazzi veramente inutili che non riesco a capire non riesco veramente a comprendere determinate strategie applicate a qualsiasi ambito lazio non voglio essere ripetitivo è strategie comunicative fanno schifo strategie di mercato fanno schifo strategie di marketing non ne parliamo che è che cosa qual è la soluzione lo chiedo anche a voi ditemelo nei commenti perché tanto lotito ve lo dico li rimane quindi ce lo dobbiamo tenere sarri è una benedizione per noi io non so se essere più preoccupato del fatto che ancora non abbia rassegnato le dimissioni o del fatto che tare stia zitto senza dire nulla qui nemmeno si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto povero giovani cabral mi viene da dire quello è arrivato sotto le foto del suo del suo benvenuto sui social della lazio i tifosi stanno bestemmiando stanno bestemmiando e imprecando anche giustamente che cosa gli si vuole dire alla tifoseria laziale questo è sadismo è sadismo vi piace far soffrire il tifoso a questo punto non mi spiego altrimenti certi atteggiamenti proprio ieri ieri siamo stati presi in giro per l'ennesima volta in sede di mercato da tutte le squadre ogni operazione tentata veniva rispedita dal mittente senza mezzi termini anche in televisione ci hanno preso per il culo passatemi il termine scusatemi e nessuno dice niente nessuno e io immagino se questo succede con un sarri che non ti ha chiesto manco un nome ma solo dei ruoli funzionali per andare a sostituire determinate pedine immaginiamo a giugno che può succedere soldi o non soldi che siano disponibili o meno io non oso immaginarmelo e scusatemi se già penso a giugno ma è bene che forse entriamo nell'ordine delle idee che succederà qualcosa lì molto serio a giugno è bene prepararsi ora se a firenza andiamo a prendere quattro gol io non voglio sentire sarri out non vorrei sentire sarri out non che io sia chissà chi però mi piacerebbe che la maggior parte dei tifosi avesse il buon cuore di capire che se a firenze si romperà patrick o radu dovremmo metterci il giardiniere al posto loro e questo non potrà essere colpa di sarri diciamolo subito immobile ieri ha preso una botta al ginocchio sicuramente ce la farà per firenze ma se fosse andata peggio sarebbe stata cabral la soluzione arrivato da un campionato tra l'altro estero cioè nemmeno la lungimiranza in realtà non è lungimiranza l'esperienza nemmeno l'esperienza di andare a prendere un giocatore che già militi in serie a in modo da non farlo ambientata non dover attendere che si ambienti no nemmeno quello un povero ragazzo di 23 anni alla sinistra che poco ci azzecca coi dettami di sarri al momento perché su quei ruoli ruoli siamo stracoperti buttato nella mischia così tanto per fare cosa per pensare di salvare un mercato indecente invece no oltre a cabral abbiamo desterato e occupato l'unico slot rimanente da extracomunitario con kamenovic poraccio pure quello perché d'altra parte che gli si vuole dire non è colpa sua se qualcuno lo è andato a prelevare dal curacichi o curacichi cucaraccia come minchia si chiama quella squadra non è colpa sua no se qualcuno ci ha pure speso 3 milioni per prenderlo comunque facciamo questi ragionamenti è prima di ricominciare che alla prossima sconfitta sarà colpa di sarri e persino i giocatori io voglio sono curioso di vedere l'approccio psicologico che avranno i giocatori a firenze anche lì diamo la colpa ai giocatori o a sarri e mi raccomando basta fatemi sapere quello che pensate anche voi io sono un po preoccupato mi conoscete sono sempre molto diplomatico ma per farmi saltare la brocca a me ce ne vuole non ci siamo proprio non ci siamo proprio oggi a freddo comunque le considerazioni rimangono le medesime di ieri di quelle di ieri chiaramente non è che potevano cambiare e basta forza lazio forza aguile grazie a tutti Grazie a tutti.